I vincoli di patto ci impedivano di liquidare e pagare i fornitori, forse una certa misura. Il Consiglio metropolitano ha approvato l'assestamento generale del bilancio 2015 con 14 voti favorevoli, due astenuti, un non partecipante al voto. Il documento finanziario della città metropolitana di Torino è stato adottato in un particolare contesto istituzionale dell'ente, che ha avviato all'inizio del 2015 il percorso di definizione e assestamento del proprio ruolo, come ha sottolineato il sindaco metropolitano Piero Fassino. Fassino ha spiegato che è stato garantito l'equilibrio di bilancio, al quale si affianca però anche quest'anno lo sforamento del patto di stabilità, ma per ragioni precise collegate all'insostenibile taglio lineare inferto agli enti di area vasta dal Governo centrale. Il consigliere con delega al bilancio Mauro Carena ha poi richiamato la legge di riordino delle funzioni regionali approvata dalla Regione Piemonte alcune settimane orsono. La legge ha posto sotto il profilo finanziario l'avvio di un graduale assestamento delle risorse disponibili e il superamento di quelle preoccupazioni che avevano caratterizzato i primi mesi dell'anno. Sindaco, un assestamento di bilancio che è un fatto tecnico ma anche una scelta politica? È un assestamento che consente di liberare risorse con cui paghiamo i nostri fornitori, trasferiamo ai comuni risorse che i comuni vantavano per investimenti, finanziamo una quantità significativa di investimenti sulla viabilità e sulla scuola e quindi mettiamo in movimento risorse che andranno a beneficio del nostro territorio. Naturalmente fare questa scelta significa anche quest'anno come l'anno scorso non stare dentro il patto di stabilità. Peraltro la stragrande maggioranza delle province e delle città metropolitane in conseguenza del taglio che hanno subito non rispetterà il patto di stabilità e abbiamo anzi già avviato con il governo il confronto per applicare anche al 2015 l'abbattimento delle sanzioni per sforamento di patto che è già stato applicato nel 2014. Peraltro il patto di stabilità come sappiamo dal 2016 non ci sarà più, quindi non è più così rilevante stare dentro quei vincoli per il 2015. Quello che è importante è che noi siamo nelle condizioni di poter mettere in movimento risorse che andranno a beneficio di interventi sul territorio a beneficio dei nostri comuni. Per il 2016 il nuovo sistema di contabilità ci consentirà maggiore elasticità e anche una significativa liquidità che ci deriva dalle alienazioni patrimoniali che abbiamo cominciato a fare.